Mi chiamo Laura, mi sono piaciuto un sacco di cose, nel senso mi è piaciuto tutto, non posso dire una cosa più dell'altra, diciamo che è stato un crescendo, a parte che io da settembre che sto lavorando con la Divine Connection, perché ho fatto i tre giorni di luce, per cui diciamo che questo seminario, questo stage, come possiamo chiamarlo, è stato, non dico l'apice che deve ancora venire, però un bel crescendo di questa vibrazione, cioè di una cosa di espansione, di connessione con tutto l'universo e di cercare di ripulirti di tutte le cose che non vanno per fare una lavagna bianca e riscrivere la tua vita. Allora, a parte che io lo consiglierei a tutti, nel senso che io ho già un po' di tempo che lavoro, che cerco sulla crescita con me stessa e tutto questo, però secondo me è una tecnica così facile che la consiglierei a tutte le persone, ma a tutti, perché anche a chi sta bene per migliorare. Mi porto a casa e intanto mi sento molto più leggera, sinceramente, cioè credo che bisogna lavorare anche nei giorni a venire, perché un lavoro così grosso deve entrarti nelle cellule, nel DNA, però sento una gran pace, sono anche più ferma, non lo so, più tranquilla. Grazie Patrizia, ci vediamo presto. Grazie a tutti.